Il simulacro della Madonna Nostra Signora dei Sette Dolori sfilerà intorno alle 19 sabato 17 settembre dopo la Santa Messa lungo la via Ferdinando I accompagnata dalla banda musicale e dai fedeli. La parrocchia di San Marco ritorna dunque a celebrare dopo due anni di stop a causa della pandemia con la processione questo momento di festa organizzato dalla parrocchia guidata dal parroco Don Antonio Lovetere e dall'associazione Devoti Nostra Signora dei Sette Dolori. Festeggiamenti iniziati il mercoledì 14 settembre con la Santa Messa delle 18.30 preceduta dalla coroncina e Santo Rosario Meditato. Ieri pomeriggio durante la celebrazione sono state anche benedette le corone del rosario. Riprendiamo questo percorso dove tutta la comunità viene coinvolta. E' la festa della Madonna sotto il titolo Nostra Signora dei Sette Dolori dove domani sabato celebremo questo evento importantissimo per la vita di questa parrocchia dove tutti siete invitati a partecipare. La devozione popolare spessa volta si esprime proprio con le processioni non solo con la preghiera con il rosario che è tipica della Sicilia e tutta quanta ma nel nostro ambiente nel Nisseno le processioni hanno questa devozione particolare dove la gente sente il bisogno di avvicinarsi ai Santi o alla Madonna. E quindi questo esprime in un certo qual modo un senso di appartenenza dove ciascuno nel proprio cuore esprime quella gioia o quella richiesta necessaria per qualche grazia particolare che ha di bisogno e così via. Questa è la prima processione che noi dopo la pandemia siamo riusciti a organizzare con la speranza che le prossime processioni possono essere realizzate. Naturalmente questa emergenza Covid ci ha danneggiato sul piano ecorganizzativo ma adesso abbiamo tanta voglia per ricominciare e quindi andare avanti su questa strada.